Elio De Angelis, il suo difficile ruolo di pilota italiano che però gioca sempre fuori casa, anche quando ha vinto a Imola giocava fuori casa. Evidenziato oggi direi da un episodio piuttosto curioso, per favore Veschi manda in onda quell'episodio, ecco gli applausi che lei De Angelis ha rimediato, ma solo per avere dato un passaggio a Johansson, che è uno svedese, eccolo là, ma che però no, questa è la partenza, era l'episodio di prima in cui si vedeva appunto applauditissimo De Angelis, ma perché portava sulla sua macchina ai box Johansson, che è uno svedese, però è un ferrarista. Ma io penso che abbiano applaudito anche me, forse per le battaglie iniziali più che il mio sesto posto, indubbiamente Johansson ha favorito anche l'applauso, ma è un applauso sempre, non è che sia tanto generoso con voi che correte con altre macchine, no, è un po' una vecchia. Ah, indubbiamente c'è sempre stata un po' questa cosa. Partiamo con le prime immagini della partenza, e da questo momento direi Ubi Maier, fai un po' tutto da te, sia commento sia intervista De Angelis, vediamo la partenza, Veschi per favore. Io ho visto, sono rimasto impressionato di un'imprudenza di Senna, la prima chicane, questo pilota è indubbiamente molto veloce, però deve dimostrare ancora di saper correre con la testa, perché poteva fare una cosa pericolosissima più per gli altri che per sé. Ecco il punto. Eccolo, cosa dici Elio? Sì, qui indubbiamente era dietro, invece ha cercato, perché aveva la tradizione interna, di mantenere l'interno, ma era nettamente dietro, infatti Rosberg, che ha chiuso bene. Sì, io ho visto che oggi tu sei andato molto forte finché avevi la macchina per andare, ecco lì si rivede, ed è un sorpasso anche emblematico di una stagione, io considero De Angelis, non lo dico perché sia qui uno dei piloti italiani più seri, più preparati, più professionali e più regolari. Io credo che però quest'anno non abbia potuto dare il meglio di se stesso anche per tutta una serie di motivazioni molto precise. Tu sei diplomatico, io da tifoso lo guardo allora. In effetti quest'anno non sono stato aiutato come doveva essere nel momento in cui potevo effettivamente lottare, o comunque tentare di lottare per il campionato del mondo. Vediamo quello che riuscirò a fare il prossimo anno. Ma comunque sarà difficile che resta la Lodos. Ecco, ma questo ha suggerito forse una certa decisione, no? Che c'è stata una firma? Non c'è stata ancora una firma, ma sono orientato a cambiare squadra, senz'altro.